Bene, fine partita qui al comunale di Sant'Alessio Sicola, Arturo Mastroeni, siamo con Salvatore D'Are, uno dei dirigenti del Sant'Alessio. Una seconda vittoria in casa consecutiva per 2-1 contro il Monforte San Giorgio. Stentata all'inizio la partenza del Sant'Alessio, sotto di 1-0, sotto il rete di Bertuccelli. Poi invece è arrivato il gol della vittoria alla fine quasi della partita di Garufi, che è un nome storico per la squadra del Sant'Alessio. Sì, abbiamo stentato nel primo tempo, i ragazzi non riuscivano a coordinarsi nel gioco, però nonostante ciò abbiamo avuto due o tre occasioni per portare in vantaggio la squadra con Aogliera e con Tindaro. Poi il Monforte ha trovato questo autogol con Bertuccelli. Poi nel secondo tempo, anche grazie ai cambi del mister, siamo riusciti a ribaltare la partita. Siamo stati fortunati nel pareggio perché il partiere sul tiro di Tindaro è scappata la palla dalle mani. E poi al novantesimo, come hai detto tu, c'è stato il gol di destra dello storico Davide Garufi. Avete perso in trasferta, però ci sono due vittorie consecutive in casa per il Sant'Alessio. Quest'anno è un'altra musica rispetto alla stagione scorsa. Sicuramente abbiamo un buon organico. Noi miriamo sempre ad ottenere una salvezza tranquilla e poi, come ho detto anche precedentemente, quando avremo conquistato questi punti decisivi faremo un nostro campionato. Potevamo avere qualche più di più perché questa domenica scorsa a Milazzo non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo segnato il gol del vantaggio all'ottantesimo. Poi ci siamo disuniti, un po' di inesperienza. Abbiamo una squadra giovane, abbiamo preso due tiri, uno sul calcio di punizione, due colli, uno sul calcio di punizione e uno da un tiro da lontano. Però tutto vale per esperienza. È un campionato più difficile questo della prima categoria. Anche oggi stavamo rischiando tanto, poi alla fine con tanta grinta, devo dire, perché i ragazzi hanno messo tanta determinazione, siamo riusciti a ribaltare il risultato.